Buongiorno, ci sono diversi tipi di valvole di ricarica a gas Ronson, due tipi, c'è il tipo A e il tipo B, questo viene il tipo A. Ci sono due modelli diversi tipi, per valvole di ricarica a gas Ronson, per il tipo A e il tipo B, e questo è il tipo A. Per il tipo B, for 30 different, you look inside the Fiat, noti che c'è la regolazione per l'apertura per un giravito. Questo in particolare ha anche il fatto che ha rotto lo spillo, non ha tanta importanza ma viene molto difficile da ricaricare. Quindi noi apriamo, tolava un po', si vede bene, facciamo in modo di vederla il meglio possibile, ok? Devo andare ancora col giravito. Addirittura questa c'è anche una rondella, non so perché, non capisco, non lo so, perché c'è questa rondella. Non è normale avere questa rondella, non è normale, usate questa rondella, questo ring. Per l'apertura, ti usate questo, questo, puoi, e ho trovato, ho trovato, ho trovato, qui, ho trovato, ho trovato, ho trovato, ho trovato, ho trovato, ovvorio. Ok, bene, and replace this, ok, spring in this part, and the new O-ring, the O-ring inside, I use the, ah, ok, the O-tone, no, ok, spring, ok, ok, push, push the valve, ok, try, oh no, try this, check the leak with the water, and the soup, no leak, and try the fire, it's good, ok, ok, ok,